E' una grandissima tragedia e credo che il dolore per i genitori, quello della perdita di un figlio, sia un dolore incolmabile. E' una perdita grandissima per tutta la nostra comunità perché è difficile pensare che non vedremo più Alessio passare a Borgo San Mauro e è una cosa veramente tragica. E' profondamente scossa Daniela Pallotta, trattiene a stento le lacrime al nostro microfono, non è solo il sindaco di Duino Aurisina ma nella circostanza pure un'intima amica di famiglia di Alessio Rotta. In particolare della madre Benedetta Nicolini che era sul sentiero con il figlio tredicenne e il cane Tobia quando il ragazzo è precipitato di sotto. Dopo lo sgomento e il lutto, la Pallotta deve ancora decidere se proclamare quello cittadino in ossequio alle volontà della famiglia. Arriva il momento della riflessione. Oltre ai parapetti esistenti e ai segnali di pericolo si può fare qualcosa di più per la sicurezza di quel sentiero? Su questo fronte però il sindaco non ci sta. Beh è bruttissimo che ci sono persone che anche in questi momenti non riescono a lasciare in pace la famiglia e non rispettino il dolore creando polemica. Questo è veramente vergognoso. Noi come ente gestore della riserva due volte alla settimana abbiamo una ditta che fa il controllo della sicurezza e anche lo sfalcio del verde. Quindi il Rilke è un sentiero che può essere pericoloso sicuramente ma come tale va gestito. La famiglia conosceva benissimo questi problemi. Non è che loro andavano sempre a camminare. Adesso non è il momento della polemica. Purtroppo è stato un fatto accidentale. La famiglia di Alessio peraltro era appassionata di scalate e lo stesso ragazzo era avvezzo a percorsi di montagna ben più complessi. Ora resta da attendere la decisione della procura che sta vagliando i verbali dei vigili del fuoco sulla ricostruzione del fatto. Spetta al PM Chiara Degrassi decidere se aprire o meno un fascicolo. Stando a fonti investigative però la ricostruzione pare rimanere quella delle prime ore. Ovvero Alessio avrebbe superato il parapetto per guardare la parete e in qualche modo avrebbe perso l'equilibrio cadendo di sotto.